Bella a tutti animali animali e benvenuti nello speciale 400.000 iscritti Scusate se l'audio non sarà dei migliori ma è stato registrato all'interno di una fiera Comunque è la prima volta che si vede un video del genere su youtube Italia E quindi spariamo questo video a 50.000 mi piace Fatemi sentire che ci siete e adesso vi lascio al video Buona visione Ciao ragazzi e ragazze sono animali e ben formati in questo nuovo video Oggi siamo nella futbol volta Incomedi questi tre passi E per chi non sapesse cos'è lo vedranno a breve Però prima le sguadre Marco dai io a puntata Scusate facciamo solo noi tre E poi troppo da te Buca e giù 15 15 15 Molto grosso Intanto vinciamo noi Mi Aggi Noi Karamay by Ragazzi da ci ritroviamo Ti spacchiamo Ti stiamo facendo le tattiche Ragazzi Dettaglio dentro alla palla Non si può mettere gli occhiali quindi il 2 non vedono niente non vedono niente ma lui non ha di pancia eh io mi cago addosso questo mi sviene dentro la palla io sto stampo però noi non vedo non vedo un cazzo io vedo macchie quindi ma lui non si è neanche venato il cavolo ecco punto non è di questo che ti strogo aiuto 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 i nostri messi sono riscaldati respiro la partita è stato cominciare e a nostra sinistra abbiamo la strana composta la Vegas e Anika e a destra abbiamo Suri e Steppi ad esempio sono io a condurre o meno bene cominciano subito con i guam primo gol per Suri e Steppi gol per Anika 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 No! Stavo in fuori gioco! C'è Sury che da dove vede gli occhiali? C'è perso la scala! A partire è 3 a 1 per Animal Vegas! E ricomincio così! Sascha, l'amico, come è tutto! Intanto Sascha sta in porta! Oh! Hanno fatto un Eurogold! Oh! Per adesso siamo a 4 a 1 per Sascha! 5 a 1! No! Capotele a Sury! Sury si vede! Sury si vede! Oh! Oh! Sury è davvero violento in questa mattina! Sury! 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 E Sascha si diventa! Oh! 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 I nostri ragazzi sono stagli e passano la dolezza Sant'Anima fa il settimo gol Invece così Hanno fatto il settimo gol Hanno spaccato la bocca E' peggio dalla palestra Sei cazzato Fanno così quella punizione Fa le skill E su ritira e lo fa gol Strano Oh Palo E risultano così C'è certi che stanno Oh La prossima settimana C'è da noia e racconto E' un tanto surico al gol della merda Sono voi riscaldati C'è una parere dove sono molto felici Che avevano ancora molte cose da spiegare Questo qua era assolutamente un suo riscaldamento Adesso cominciamo a giocare serio Oh 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 Eurogoal Eurogoal C'è un assurico C'è un assurico C'è un assurico C'è un assurico Oh Alla fine Vegas dice dice ma alla fine non fa un cazzo C'è la vendetta di Vegas La partita è finita 9 a 3 per l'anima e Vegas C'è un assurico Un assuricando C'è un assurico Siamo pen Şimdi Un assurico Un assurico 1 2 2 3 5 6 7 6 1 5 5 5 3 Vincitori! Beh... Non abbiamo mai studiato... 10 minuti di tastiera attività è meglio della palestra Hanno appena fatto il riscaldamento, adesso cominciamo la partita Se Vegas... Se Vegas qui... Non era con anima Se Vegas qui non era con anima col cazzo che vinceva Sì sì... Senza occhiali... Senza occhiali... Superiamo 50 per la prossima sfida e... Bella! Non esce, non esce, non esce! Non esce? E' la metaglia, con la metaglia Ultimi Ciao ragazzi